Fino a domenica l'attore Viscontia di Lecco si può ammirare una mostra particolare, quella promossa dal gruppo Aiuto Mesotelioma in collaborazione con gli studenti del liceo artistico Medardo Rosso per sensibilizzare la popolazione sul problema amianto. Questa iniziativa è stata un lavoro di echipe tra i professori, tra gli studenti della terza, quarta e quinta liceo artistico di Lecco del Medardo Rosso che abbiamo appunto fatto una mostra quindi con l'arte, hanno voluto trasmettere ai ragazzi quello che è il problema amianto. È stato un lavoro di sei mesi con varie tecniche, quindi dalla tecnica di calcografia, la tecnica di serigrafia però anche e soprattutto un lavoro di preparazione che con anche il professore Mario Carzaniga e altri professori c'è stato per far rendere conto ai giovani, ai più giovani, il problema dell'amianto che purtroppo ancora circonda le nostre zone. Quindi loro con questa mostra hanno voluto trasmettere e dare un senso anche agli altri cittadini di quello che loro hanno appreso. Secondo me ci sono riusciti con anche un po' di leggerezza perché questi lavori chiaramente hanno studiato anche le cellule, hanno voluto, ci sono anche degli disegni astratti e soprattutto è da ammirare anche lo spirito con cui l'hanno fatto ma anche la fantasia che ci hanno messo. Noi siamo aperti in Torre Viscontea fino al 16 di questo mese, di giugno, quindi fino a domenica. Tra l'altro sabato pomeriggio ci sarà anche un intrattenimento verso le ore 16, un intrattenimento musicale di un ragazzo giovane che suonerà la chitarra e delle letture che verranno fatte durante la mostra. Quindi vi invito veramente a venire perché ormai sono gli ultimi giorni per ammirarla. Dopodiché se qualcuno vuole ci sarà anche un album con tutte le raccolte di queste opere uniche realizzate dai ragazzi che noi daremo in cambio appunto di qualche donazione.